E benvenuti e benvenute qui è Dalkan che parla e siamo di nuovo su Diablo 4 Release con il nostro amico Mimmo. Signori miei, è ancora qui con noi. Non ci ha abbandonato perché noi non abbandoniamo i Mimmi per serata. E niente, adesso andiamo a recuperarlo perché andiamo a fare qualche ventuccio, ma soprattutto altri dungeon per cercare di crescere con la fama e arrivare dove dobbiamo arrivare. Dove stai Mimmo? Da che lato? Ah, tu sei da ste parti e finché arrivo praticamente è finito l'evento, mi sa. Comunque aspetta che ci provo. Vediamo se riusciamo ad arrivare in tempo. No, si è verso la fine ancora. Vediamo, vediamo perché purtroppo mi fa... Devo ancora parire il mostro. Ma cacchio, io potevo teletrasportarmi su di te, fermati un attimo. Vabbè da qua si può fare. Ah, si è morto. A posto, vedi che ti avevo detto io. Vabbè, forse mi prendo la ricompensa. Se ci sarà una ricompensa per noi da queste parti. Non ce l'hanno fregata. Mimmo, non mi frega la ricompensa. Ho fatto un pacchettone. No, infatti, vedi, è già fatto l'evento. Va bene, dai, facciamo così. Andiamo direttamente al dungeon 1. Aspetta, aspetta che non l'avevo pingato prima. Sto vedendo... Andiamo a fare prima questo, dai. È in alto praticamente. A nord-ovest di Chiovashad. Ah, eccolo lì. Ok, mi trasferisco là. Aspetta che non mi fanno andare. Così, facciamo tutti questi eventini, ragazzi. Stiamo, vedete, 2,65. Pian piano ci stiamo avvicinando. Tanto le secondarie ci siamo quasi. Gli altari di Lilith da sta zona. Dobbiamo ancora prenderne un po'. E via. Spedizioni secondarie. Ci danno 30 ognuno di esse. Quindi, a voglia. Dobbiamo farm... Porca miseria, sono entrato nel portale di nuovo. Mannaccia. Eh, sono cose che succedono, raga. Sì, no, lì, no. Torniamo, torniamo, torniamo. Via. Non possiamo... Non possiamo fare questi errori grossolani. È perché praticamente ho cliccato nel punto sbagliato. Ci sei tu là perché mi teletrasporto su di te? Vai, vai, vieni, vieni. Ok. Perfetto. Così evitiamo di fare tutto questo tragitto. Una delle novità che, appunto, c'è stata da parte dei developers è che quando si faranno i Nightmare Dungeons ci daranno la possibilità... Oddio, devo entrare, giusto? Di teletrasportarci con il sigilo direttamente nel dungeon, quindi non dovremmo più fare la strada. Ed è tanta roba perché evitiamo di perdere sempre tempo. Ma che bello sto dungeon. Guardate che diamine di figata. Mimmo, nel frattempo, ha finito il dungeon. Perché ci ha voluto aspettare. Guarda, guarda, guarda la differenza quando arrivo io, Mimmo. Ti stavo congelando. Lo so, lo so. E li ne avevo soggelati. Infatti... Scarlet appena visto ho detto, ma guarda un po' i ghiaccioli. Eccoli là. Una bella massa di Elite. Teniamoceli belli, freschi, freschi o caldi, caldi, come preferisci, Mimmo. Perché questo dipende dalla tua build. Qui teniamo belli, freschi. Io prendo tutto comunque perché seriamente dobbiamo rifare i soldi. Ok. Io sto adorando seriamente questi pantaloni unici che ho in questo momento. Spero che... Riuscirò a portarli avanti abbastanza. Anche se delle volte vedo che effettivamente allunga un pochetto i tempi di recupero. Però... Non è un dramma. Almeno per adesso. Però potrebbe onestamente... Salvarmi... Potrebbero salvarmi tantissimo. Perché delle volte si attiva una marea di volte la stessa trappola. Ma davvero si spamma in automatico da sola. Mi ha bloccato. Vabbè, ho capito. Facciamo così. Ok. Questo ci piace, Mimmo. Ci piace, ci piace. Guardalo là. Stai buono qua. E boom, via. Tutto pazzo. Prendiamolo. Siamo bombastic. Bombastic! Ok. Oh, mamma mia. Questi qua praticamente quando con Peppe abbiamo fatto il dungeon, quello di livello... 12 livelli più alto. Sì. Quello là, Nightmare. Porca miseria, quando ci lanciavano queste frecce di fuoco. Era one shot. Sempre. Sempre. Non c'era una volta che ti salvavi. Mi ha dato una bacchetta interessante, tu. Vedi se è di... Di frassino. Ti chiama... Ricordati che è sempre... Ricordati che è sempre la bacchetta che sceglie il mago, eh. Non dimenticarti questa cosa molto importante. Ma io attualmente sono un pugnale. Quindi. E sono i pugnali che scelgono il rogue, Mimmo. Cioè, non puoi applicare la stessa cosa, non ho capito. Eh, vabbè, ma mi dava... Abilità primaria. Mimmo, sono sempre in tempo a dire che si può abbandonare un Mimmo per strada, eh. Oh! Arco sacro, ma perché sempre... Io sto beccando un botto di archi e i dio archi non ne uso proprio. Cioè, nel senso, nella mia build uso solo le baleste perché fondamentalmente sono quelle che workano meglio con le mie cose. Mi serve più tempo. Eccolo. Che... Il ghoul è arrivato convintissimo e poi si è beccato la trappola ed è caduto. Che dovevo fare? Uccidere tutti... Ah, tutti i nemici! Cacchiarole! Non me ne ero accorto, io andavo dritto, normalissimo. Quello era un rossi lì, no? E non ci ho fatto proprio caso, io. Stavo andando dritto, così, senza pensarci. Però prima di entrare andiamo a spaccare, a vendere tra l'idio lento. Perché sei di nuovo messo pieno? Sono pieno, sì. Madonna, Mimmo, quanto troppi tu... Il mio carico è eccessivo. Menomale che i soldi non sono mai eccessivi. Ok. Quelli servono. Uh, arrivo. Mamma mia, che bello. Si è riattivata. Che cosa spettacolare. Io voglio in città. Ok. Io arrivo fino alla porta e poi... Perché tanto penso di farci, sì, io voglio. Sono... Sono abbastanza... Un terzo di inventario vuoto, più o meno. Lo sto andando di qua. Che vuoi tu, scheletrino? Ah, però aspetta. A sto punto se vai tu vado pure io, perché così ce li togliamo tutti e due. Se no poi al turno dobbiamo andare sempre una alla volta. E Mimmarello finalmente si gioca insieme. Io sto vendendo tutto. Vendi pure le mutande, Mimmo. Nella labbra del genere. Allora, vediamo qua. Non mi interessa questo. Non capisco perché questo mi appassa il DPS così tanto. Allora. Cosa ti dà? Perché lo fa? No, forse perché... Ovviamente perché non c'è sta il castrone. Però vabbè, la mia... La mia mi dà... Il mio pugnalismo... Però attenzione che il DPS non viene influenzato dalle pietre. Quelle che hai dentro. No, assolutamente no. Perché se tu leggi ci sono abilità base, dice. O che ne so... Fai danno ai nemici vulnerabili, ma non viene influenzato. Il colpo è... Qui nella bacchetta è da 366,550. Nell'altro è da 582,800. Mimmo, io sono arrivato qui. Raggiungi la tomba di Tazbak. Ma lo posso... Siccome mi serve l'abilità leggendaria, no? La posso strada e mettergliela nel pugnale, giusto? Volendo sì. Ma magari farlo dopo, Mimmo, perché qua ti sto aspettando davanti. Su, su, corre. Venga, venga qui, venga qui. Poi faccio sta roba perché mi la... Danno da voli. Venga, signor Mimmo, venga. No, aspetta, non l'uccidere. Consumabili, uno a caso, via. Ok, vai, andiamo. Ma non è che l'uccidevo comunque in tempo zero, eh? Si sa mai, Mimmo. Magari ti sei potenziato così tanto nell'arco di 5 secondi che... Che poi chi lo sa. Bella. Pugnale, leggendarietto. Ok, è questa. Tuoi cloni d'ombra? Non me ne frega niente. Ok, usciamo subito da qua e andiamo al prossimo che ce l'abbiamo proprio accantomi. Non dobbiamo fare neanche tanto strada. Sì, sì, ce l'abbiamo vicino. Ho scelto questa zona proprio per questo motivo. Così, facciamo tutto questo. Ragazzi, come vi dicevo, stiamo facendo un po' di completismo. Perché ci serve, fondamentalmente ci serve. E questo fa parte ancora delle cose, Mimmo. Della zona nostra qua, come si chiamano? La zona delle tette fantumate. Quello che ti ho pingato. Mi sa di sì, vero? Di sì. Ok, ci facciamo l'evento, tanto ce l'abbiamo qui. Ok, aspetta, cadeo. Eccomi qua. Ok. Una volta che ci siamo. Mi serve più tempo. Vedete, tutte qua. Belli. Allora, diciamo che il fatto di aver fatto questa modifica alla trappola mortale, secondo me, è molto più utile ai livelli alti. Perché i livelli bassi li ammazziamo davvero facilmente. Di conseguenza, non procca quasi mai il fatto che utilizziamo la trappola spesse volte. Ho livellato e quindi non lo so. Cioè, va bene comunque. Però, se effettivamente loro muoiono subito, poi ci vuole molto perché si ricarichi l'arma. Eh, scusate la trappola mortale. Io metto un attimino il punto e andiamo. Perfetto, sono già pronto. Madonna che efficienza, Mimmo. Adesso metto anche il puntino. Puntino, io metto i tuoi puntini. Io metto i puntini su lei. Mimmo, fai i puntini. Cioè, segui lì con le lineette. I tuoi incantamenti sono più forti del 20% da quella parte. È il nuovo leggendario. Il smeraldino lo prendiamo. Siamo mai... Mi serve più tempo. Eh, che è sta storia? Sì, ho passato la stagione. Eh... La gara. La gara con i cavalli. Donni. Non ci facciamo fregare. Ma perché non riesco a scendere mai dal cavallo? Io mi... Ma porca. Vabbè. Basta. Sono scocciato. Tutti a terra. E io sto a terra... Se io non riesco a scendere a terra, butto a terra voi. Io sono già vento. Io stavo uccidendo questi. Il mio cavallino è più veloce è il tuo. Eh, è solo perché il tuo vola, praticamente. Il mio è praticamente... Poi si buttano qualche cavallo con le ali e vola, davvero. Minchia, lo chiamo Pegasus, davvero quello. Ho già avuto un suggerimento da un mio follower che mi ha suggerito appunto di chiamarlo Pegasus. Ed era un'idea bellissima. Pelle grezza. Effettivamente potremmo dare ad ogni cavallo un nome diverso, ad ogni cavalcatura che abbiamo. Se si potesse mettere il nome dentro. Non sarebbe mica male. Io mi diverto troppo contro gli Elite. Come no, no, no. No, ma dai. Ste cose scriptate. Non ci dà mai la possibilità, davvero... Ma perché sta... Di salvare. Sì. Ma ogni tanto ho dei cali di frame incredibili da ste parti. Ci siamo separati. I miei amici sono stati uccisi. Un vero, buono persona. In questi casi dice, chi te l'ha fatto fare? Eh, vabbè. Non posso ancora farlo. Si trovavano da ste parti. Venite, dai. Non ho per un po' di soldini. Ognuno trova il proprio modo per fare i soldi. A quei tempi, magari... Uh, ma tu stavi da ste parti, mimmo. Ma guarda la... Guarda come si lancia lui. Io mi lancio via lì. Mi rotoloni e regina, mimmo. Non finiscono mai. Non posso ancora farlo. I rotoloni demoniaci. Mamma mia. In posto della carta soffice ti danno la carta pecorina, dato che loro sono caproni qua. Aspettate, guarda quanti secondi. Poi lo fanno di lana di capra. Ok. Con le corna sopra pure. Le corna sono tipo l'emblema. Sì. Il logo. Bellissimo. Sai che... Sai che... Che marketing poi, seriamente. Ok. Grazie, viandante. Senza di te non ce l'avrei fatta. Adesso è uscito da solo, però. Adesso è uscito da solo. Ma c'è tipo il caprone che l'aspetta fuori dalla porta. Fatto tipo 5 metri e poi botta sulla nuca. L'abbiamo persa. Mimmo, credo che ci sia il macellaio. Sì. Vieni qua. Oh, mamma mia. Signori. Signori, abbiamo il macellaio. Abbiamo il macellaio. Io e Mimmo contro il macellaio. Stavolta lo stunniamo al macellaio. Stavolta gli facciamo qualunque cosa. Non ci preoccupi. Non ci preoccupi minimamente. The Butcher. Mi dispiace per te, ma questa volta cadrai. Come tutte le altre volte. Che sei caduto. Perché siamo più forti di te. Perché cacchia? No, la stiamo attentissimi, Mimmo. Perché qua ce la stiamo giocando fino all'ultimo. A me io sto ancora... Sono nuove pozioni. Sì, sì. Fui so tranquillo. E anche il The Butcher è andato giù. Signori. Che episodio. Abbiamo il Mimmo. Abbiamo il macellaio. Che bella nel macellaio che mi ha dato. Quando congelo un nemico ci sono probabilità del 25% che questo diventi vulnerabile. Mimmo. Abbiamo fatto fuori il macellaio. Non so se te ne sei reso conto. Proprio easy. Easy, easy. Lo sentivo col suo zompettare. Signore, l'avete voluto il macellaio di nuovo. Ed eccolo qui. Ok, possiamo andare su. Via. Dobbiamo andare giù? No, dobbiamo andare su. Ok, subito, subito. Vai. Mi serve più tempo. Dov'è? Vieni qua tu. Ma a proposito, fatemi vedere se le abilità le ho sistemate bene. Non vorrei aver dimenticato dopo l'altro giorno, no. Ho sistemato tutto, ok. Sì, lo so Scarlett, lo so. Ti preoccupare. Cosa abbiamo? Riporta la scatola meccanica al piedistallo. Quello di sempre. Andiamo a prendere la speculina. Allora, tu vai di là, vado di qua e poi ci uriniamo dopo, dai. Non è vero, scherzavo, è lo stesso strato. Sta arrivando. È durato poco questo... Questa separazione. Questa separazione. Eccole qua. Adesso dobbiamo andare uno da una parte e l'altra. Vai Mimmo, dividiamoci. Goblin, goblin, attenzione. Vabbè, se troppo il leggenderino vengo dopo. Sì. Ok. Io l'ho droppato uno sacro. Mamma mia, quante caprette qui. Ah, ma qua c'è il santuario letale. Non c'avevo neanche fatto caso. Ma che cosa c'è qua? Sì, pure da ste parti. Molto divertente. Ah, ma tu sei un cacchio di elite. Non me ne ho neanche reso conto. Da me uno, c'è tanto due da me. Sì, vabbè, ma io neanche li ho notati. Oh, 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 che bellezza qui. Mamma mia. Sono andati giù, che non ti dico. Eh, da me sono piuttosto il penzellamento. Vento. Ma che mi ha messo fear? Come ti permetti? Allora. Un po' di rispetto. Scarlet è pur sempre una signora. Signorina, però. Oh, non è che... Stiamo a sentenziare. Perfetto. Io ho preso tutto. Com'è andata, Mimmo? Posto? Eh, quasi alla fine. Io nel frattempo elimino tutte ste cose che ho nell'inventario. Anzi, magari elimino queste cose. Ho aumentato anche un bel leggendalino. Ma tu hai droppato qualcosa dal goblin? Dal goblin non lo so perché è ancora novi. Ho impegnato con le cape. Ancora? Eh sì, spuntano. Non ti fare increpettare. No. E le cape increpettano, cioè, proprio... È per antonomasia. Sì, mi ha droppato un leggendalino. L'hai visto, Mimmo? A te l'hai droppato un leggendalino da me? Cioè. Non so quale, però, perché ormai sto perdendo... Ok, forse era questo. Danni critici, abilità infuse. Non stiamo utilizzando abilità infuse. In più, questo ci dà più non l'arme serpeggianti, quello che abbiamo già. Mentre con il... Mentre lo stesso casco che c'ho io. Quanto abbiamo qui, raga? L'arme serpeggianti. Entriamo che c'è il santo Mario. Vai. Oddio. Mi ha lasciato fuori, Mimmo. Ok, niente apposto. Mi avevo risolto il problema. Tu ho dato un secondo? Sì, sì, ma qua continuano a uscire. Ah, ma perché dobbiamo cliccare qua il pulsantino? Sì, ma tanto uscivano, a prescindere. Tanto era solo una... Una finta. Crypto degli ignoti. Che bello. Guarda, Mimmo come li frizza. Non posso ancora farlo. E appena mi metto l'alto anello. Diventa il signore degli anelli. E un altro po'. Il Mimmo degli anelli. Il Mimmo congelante. Il Mimmo per domarli. Non posso ancora farlo. E tutti quanti congelarli. Vai, vai. Vai. Mi piace. La trappola mortale... Cioè, mi piace davvero tanto. L'unica cosa che mi dispiace è che avrei voluto poter avere un'abilità in più per usare... Praticamente l'infusione da ombre. Che io esco pazzo per l'infusione da ombre. Cos'è, eh? Ah, Mizzica, proprio Conduit. È bene. Mannaggia, mi sono incastrato nel cancello. Leggendario, grazie. C'è altro? Qui mi hanno detto qualcuno mi aiuti. Io l'ho aiutato. Fatto bene, fatto bene. Nel dubbio tu aiuta sempre. Mi fa sempre bene aiutare. No, è che poi si è trasformato. Ah, sì. È un po' come quella quest che... Quell'evento praticamente che ti chiede di salvare la sua anima. Io non ci sono riuscito una volta e mi sono sentito da per tanti. Colpa. Cosa è successo? Ho ritrovato quell'evento. L'ho rifatto. Ho salvato la sua anima. Si è trasformata e voleva picchiarmi malissimo. Cioè, alla fine... Comunque sia... Non era una buona cosa a prescindere. Signore della tomba. Prima finita lui. Signore della tombola. A Natale vince sempre lui. Ambo. Ambo. Ah. Ok. Anche questa è andata. Signori, siamo dei fulmini. Siamo velocissimi. Fammi vedere a quanto stiamo la registrazione. Solo 21 minuti e abbiamo fatto già due dungeon. Mimmo. Porca miseria. Che velocità. Andiamo a vendere e continuiamo. Stiamo dando il meglio di noi. Devo andare a mettermi l'anellino. E vai a metterti l'anellino. L'anellino congelante. Oddio quanta roba ho. Allora, perfetto. Andiamo a vendere di nuovo. Vorrei tanto prendere i cristalli opachi, raga. Ma, come vi ho detto, sono... Sono poverello di soldi. Quindi, per adesso, sfrutteremo queste cose. Devo andare a mettere il castone e l'anello. Incastona, io lo mimmo. L'anello va sempre incastonato. Mi manca il pisma destruttore. C'è altro? Destrutturato, lì come si chiama. Niente. E no, non ce l'ho. Mannaggia. Lo proviamo così. Mmm. Proviamo così. Attenzione alla strada. Attenzione alla strada. Madonna mia. Poi mia mamma, praticamente. Allora. Ok. C'è un'anello che devo sbagliarmi. Ma, scusate. Oh, cacchio. Ora ricordo il perché non avrei dovuto togliere questi. Perché subisci il 24% in meno dei ruminici sotto effetti abilitanti. Eh, mi sa che dobbiamo ritornare con questa, raga. Mi sa di sì. Perché io ricordavo diversamente. Soltanto che questo qua ancora, secondo me, non possiamo spostarlo. Quando potremo spostarlo, magari mettendolo qui, allora avrà un senso. Ma fino ad allora non possiamo farlo perché noi dobbiamo prendere danni in meno. Infatti, vedevo che scendevamo un po' troppo. 24% di danni in meno è tanta roba. Ma davvero tanta roba. Quindi dobbiamo ritornare alle vecchie abitudini. Non posso ancora farlo. Come non può ancora farlo? Abbiamo bravato. Ok, nel frattempo rimettiamo tutto. Questo lo lasciamo da queste parti. E niente, mettiamo tutto. Mimmo, sei pronto? Io sono pronto. Andiamo? Via. No, aspetta. Aspetta un attimino. Devo mettere l'abilità... Devo estrarre l'abilità questa qui, la leggendaria, per metterla... Io ti voglio mettere fretta, Mimmo. Dove si estraeva l'abilità leggendaria? Allora, questa potremmo farla. All'occultista, no? Sennò io incomincio e poi tu mi raggiungi, ti trovi il dungeon fatto, tanto è che te che frega. Perché sennò mi esce un video di 80 km. Oddio, però qua ne abbiamo... No, solo uno. Però questo è più vicino. Così poi ci sblocchiamo pure questa zona. Dai, andiamo di qua. Sì, perché sennò mi esce un video lunghissimo. E siccome non mi ricorderò mai di fare questi tagli, perché sono avanti di molto nei video, allora conviene fare così. Mimmarello, abbiamo incontrato il debatcher. Non so se mi spiego. Il macellaio, l'abbiamo macellato. E' stato bello, però, raga. Che episodio, che episodio. Eccolo qua. Infidio, 25% di danni aggiuntivi, nemici immobilizzati, storditi o congelati. Siamo tornati a 3.971 di power... No, power level, come si dice? Power offensive. Potenza offensiva. Eccolo, amico, diventi vulnerabile. E' quella, allora. Vabbè, ti piazzo questa qua. Piazza, amico. Tanto ho ormai capito come funziona il tuo mage. Qualunque cosa gli metti è sempre potente. Però come stanno tutti vicini questi? Che carucci! Ok, abbiamo ancora a disposizione l'esperienza che ci dà il tonico, diciamo, l'elisir. Eeeh, vedi Mimmo? Qualcuno mi aiuti e poi si trasformano. Sempre l'inculata dietro l'angolo, lo sappiamo noi. Io faccio una bella cosa del solino. Mimmo prima, spende. E' un'altra. I lit non durano niente, praticamente, in questa maniera. Peccato, perché facciamo più danni con le trappole. Oddio, aspetta che ho visto qualcuno. Facciamo più danni, però va bene. Se questa è la situation per mo'. Non posso ancora farlo. Ma abbiamo livellato, sì, eh? Sì, dobbiamo li rilivellare adesso. Dove sono i nemici congelati, Mimmo? Arrivo, arrivo. Non li vedo. Sarai che hai dimenticato come si fa il mago? Avvio. Ti aspetto, ti aspetto, mentre faccio affette la maggior parte della popolazione qua dei... dei Khazra. Sto sterminando la loro stirpe, praticamente. Non posso ancora farlo. Eh, sei arrivato in modo del poto leggendario. Bravo, Mimmo. Visto. Così ci piace. Bellittino. Guardalo. No, ma l'avevo schivato. Ma porca miseria. L'avevo premuto per schivare. Però non so che è successo. Non era carico. Mi serve più tempo. Ha schivato. Che succede? Che sta succedendo da queste parti? Non posso ancora farlo. Ok. Mettiamo uno troppo lozzo. E via, tutti a terra. Mi serve più tempo. Tu ci cadi pure. Quel Mimmo frizzatutto ormai. Chiamo Polaretto adesso. Oh, Popopo Polaretto. Mimmo Polaretto. Ma dobbiamo prendere... l'altro Malanimo. Dove... Ah, l'abbiamo lasciato indietro qui. Ok. Ora ce l'abbiamo tutto. Ribbo. Mi serve più tempo. Ok. Dov'hai Mimmo? Di qua. Abbiamo perso Mimmo. Mimmo dove vai? Di qua, di qua, di qua. Sì? Sì, perché abbiamo preso già il Malanimo. Ah. Aspetta un po' sfondo tutto quello che vedo. Mentre ti aspetto. Tutto piccino. Non posso ancora farlo. Non posso ancora farlo. Bella. Tutti vicini qua. Io vado... Oh, dobbiamo andare per forze qua. Forse Rino. Tutti vicini. Ma perché scappi tu? Mette Fear. Che fastidio. Quando mette Fear. Lo stai di là. Io vado di qua. Sappiamo. Madonna quanto crolla sempre tutto qui. Ok, facciamo in questa maniera. E via. Uno, due. E tre. Goduria sta build. Oh, Santuario Maledetto. Venite tutti qua. Seguitemi. Seguitemi. Eppure quell'Elias prima o poi. Ma cos'è questo? Santuario ti ammaled... Ah, ok, vabbè. Capirai, capirai. Sfondiamo tutto. Ci ho preso pure il lusso di fermarci. Mancato. Quante andate mancano? Siamo ancora la terza, cacchio. Dove vai, Mimmo? Torna qua. Dobbiamo fare il... Ma io c'ho già il coso. No, è che c'era il Santuario Maledetto che ci serviva per prendere al massimo... Ma le ho uccisi tutti. No, vedi che ne compaiono altri. Vabbè, comunque ce l'ho fatta. No, non è vero. Quattro di cinque. Non posso ancora farlo. Peccato. Uh, ma qua... Vabbè. Pa, niente. Ce l'abbiamo quasi fatta. Un quattro di cinque ce lo facciamo abbastare. Abbiamo troppato questi. Infliggere danni e diretti a un nemico vulnerabile ha una probabilità massima del 39%. Ecco, questi ci servono per la... Per la build. Questi ci servono per la build. Infliggere danni e aderi a un nemico vulnerabile ha una probabilità massima del 39% di frastornarlo per due secondi. Questa è tantissima roba. E soltanto che fanno cagare un pochino loro. Dobbiamo potenziarli. Poi dopo vediamo. I due carichi a massimo in delusioni. Hanno varie resistenze quelli. Durata al rallentamento. Resistenza al fumo. Resistenza al freddo. Vabbè, tanto vanno sistemati. Ah, l'unica cosa che hanno di buono questi è che hanno pure... Dove stavano? Hanno un 39% di forza che probabilmente ci fa davvero tanto comodo per altre robe. Ah, abbiamo livellato quindi a questo punto. Mettiamo il punto intelligenza. Eh sì. E poi ci andiamo a fare danni da trappole. Danni da trappole. E qua bracconiere. Ah, intelligenza vedete serve da sto giro. Di nuovo. Mamma mia, non vedo l'ora di arrivare qui. Io sono pronto se vuoi, mimmo. Vai. Andiamo, andiamo a beccarlo. Il cattivone. Non c'è il cattivone. Ehi, 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 chi è che spinge? Chi è che spinge? Qua non sanno rispettare la fila, mimmo. Facciamoci rispettare. Ti sto pensando a quanto ci andrebbe a togliere quel meno 41 quant'era di forza. Perché abbiamo uno dei glifi che ci chiede un requisito. Non proprio un glifo, quelli là. Oddio. Ma ti sembra il modo di arrivare? Ah, è così proprio. Era il boss? Penso di sì, non lo so. No, sembrava un'elite. Che penso. Infatti, sembra strano. Allora, andiamo all'altra board. Quanto chiedeva di forza? 170. Eh. Meno 41. Teoricamente siamo quasi lì. Quindi non dovrebbe essere un grosso problema. Però non li proveremo adesso perché dobbiamo sbrigarci. Oppure lo facciamo istantaneamente. Vediamo cosa succede. E poi li potenziamo proprio velocemente. Anche le caratteristiche generali. Però non lo so se ce la facciamo perché... Anche le caratteristiche generali contano. Vedete? Però... Però non è detto. Perché adesso che andiamo a fare? Andiamo a potenziarli al ruolo. Quindi Chiova Shad come se non ci fosse un domani. Riuscirò mai a premere la T. Per potenziare e vedere se riusciamo ad arrivare ai punti di prima. Perché questi ci servono. Frastornare i nemici quando creiamo effetti vulnerabili. Cioè raga. Cioè praticamente li blocchiamo lì. E sarebbe perfetto. Madonna Chiova Shad. Si è blocca? Si è frizzato? Ok. No si è ripreso. Mamma mia. Panico. E... Potenziamento. Su. Andiamo a potenziarli. Vediamo se abbiamo abbastanza materiali per farlo. Che a me preoccupa quello. Magari non possiamo farlo al massimo però. Un pochetto dovremmo riuscirci. Ripara. No. Che ripara? Che dobbiamo riparare? Che cacchio. Quando siamo ben. Potenziamo. Allora vediamo di quanto. Più uno. Non ce ne servono due o tre. Boom. Fino a qui. Ah oddio. Possiamo farli al massimo. A questo punto mettiamo al massimo. Chi se ne frega. Vediamo se... Ci dava sempre più armatura quello di prima. Più tre cariche massime di illusioni. Vabbè non me ne frega. Però... La build. Questo per la build era perfetto. Quindi abbiamo secondo me fatto bene. Vediamo se attualmente abbiamo recuperato. Ma credo di sì. Sì cento... Precisi ragazzi. Guardate la precisione. Centosettanta. Non potevamo fare di meglio. Rispettiamo tutti i requisetti da tutte le parti. Vabbè tranne qua perché poi... Poi siamo messi malissimo. Ok Mimmo possiamo continuare se tu... Per caso sei ready. Io attualmente dovrei soltanto... Andare a... Vediamo se questi possono servire. Niente. Eh... Facciamo che mi prendo un po' di materiali va perché se no... Il padre sia con te. Io vado a vedere se riesco ad andare una cosa. Se mi costa poco. Ok. Quanto stiamo registrando? 35 minuti a voglia. Possiamo fare ancora qualcos'altro. Quanto siamo qui a proposito? 355. Quanto ci stiamo avvicinando signori miei? Guardate lì. Siamo quasi arrivati alla nostra meta. Io continuo a premere mappe, cose, apro, disfo. Vi ristarò rincoglionendo però. Allora qua ne abbiamo altri due dungeon. Vediamo se riusciamo a farli entrambi. Io giusto per... Per discorsi di velocità Mimmo perché poi dovrò anche staccare probabilmente tra breve. Eh... Devo incominciare il dungeon per forza. Quindi incomincio come prima e poi parto. E poi ti aspetto da quelle parti. A proposito, ma a te sto facendo anche qualche dungeon che ti serve? E... Volevi fatti già tutti? Eh... No, le ho già fatti tutti. Cioè, tutti quelli che mi servivano. Ah beh, però c'erano anche quelli che non ti servivano, giusto? Sì, quindi non ci sono problemi. Ok. Vediamo se riesco a fare questi due prima della fine dell'episodio. Ragazzi, ci stiamo avvicinando. Io ho preso anche un'altra cosa che ci serviva nella build. A meno se non ricordo male. Allora, uccidi tutti i nemici. Oh, Dio! Mi dà fastidio perché poi dobbiamo andare sempre a ricerca di mezzo mob. È vero che ce li indica, però... Un po' noiosetta come cosa. Ho messo finalmente l'eduizione tempi di recupero lì, no? Oh, così ci piace Mimmo. Veloce e svelto. Allora, vediamo quanto ce l'ho adesso. Dai, forza. Venite tutti qui. Che abbiamo da fare, eh? Non so perché, ma mi sembra che faccia meno danno. Non so, ho questa impressione. Ho cripto di meno, non lo so. Vediamo, perché vedete che non partono i critici? Sto vedendo molti di meno. Devo controllare che differenza c'è tra... Tra quei due stivali. Ma forse è solo un'impressione, eh? Magari mi sto totalmente sbagliando. Che danni ci sono comunque. È arrivato il Mimmo ed è esploso. Avete visto? Ok. Mimmo, fai crollare tutto quando passi tu. Cioè, il passo proprio leggero. Passo pesantuzzo. Ah, non potevo fare niente là dentro. Ecco perché facevo sta roba. Che casino. Macello, signori. Non si capisce più niente. Ok, che mi vado a recuperare un po' di roba dietro. Non c'è un forze. No, non c'è un forze. Oh, comunque sono arrivato a un milione e trecento a fare di vendere roba. Se alla fine si vende piuttosto che riciclare, i soldi si rifanno, eh? Ho fatto uno. Oh, un pugnale sacro. È forse anche unico. Attenzione. Le tue abilità primarie infliggono il 36% di danni aggiuntivi spendendo 3 punti combo. Le tue abilità base che sfruttano quest'arma hanno una probabilità del 30% di generare 3 punti combo. Ok, questo per una build combo è perfetta. Peccato che attualmente non sto utilizzando niente di tutto ciò. Peccato perché abbiamo beccato un pugnale unico. guardalà, guardalà che casino. I costrutti. Dove siete costrutti? Chi vi ha costrutti innanzitutto? Mi è droppato un coso giallo lì, un emblema. Ah sì, un glifo? Mmh, piromania. Ah, mi... Visto? Sono un piromano. Ma no. Eeeh... Che bella questa. Ma dirà che vado di qua. Mi sa tanto dirà chiuso. Mimmo, ti sei fatto fregare, hai visto? Madonna. L'abbiamo scoppiata subito questa qua. L'ho scoppiata proprio in due secondi perché avevo due santuari attivi. Ma abbiamo fermi qua, belli. Che ci morite. Oh, anellino. Che rapidità. Eh, ma sti santuari fanno davvero la differenza. C'è miseria. Ogni volta che fa sta roba ci fa... ci blocca le abilità. Perfetto. Ok. Prendiamo queste. Adesso uccidi il custode del portone. Oh, poverino. Ehi, mi hai lasciato fuori, Mimmo. Perché mi lasci fuori? Sei lento. Sono lento. Scarlet, hai sentito che ha detto? Ringrazia che non c'è fuoco mica, ho detto. Lento. Ma resta un ragno del cavolo se vuole morire. Fra il tempo interagisco qua. Oh, è littino. Mimmo, non ti puoi fare congelare tu che sei il maestro del congelamento. Chiavetta presa. Forse perché sei lento, Mimmo. Ha bisogno di tempo per ricaricarsi. Concediamo il ragnettino. Povero ragnettino. Dov'è? Scappano tutti in questo diabolo. Non puoi scappare da me. Guarda, 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 guarda. Addio, bello. Ok, se non sei carico di roba... Oddio, forse sono carico io. Io no. Ma perché? Ah, perché sto premendo M, ecco perché. No, ok, possiamo uscire da qua e andare a quello vicino, se non sbaglio. Non mi ricordo se ce n'era uno vicino, però nel dubbio usciamo. Perché ce n'è un altro, se non sbaglio, a nord a qui. Allora, dobbiamo andare qui, vedi? Oddio, mi sta andando a scattissimo. Questo? Sì, è il primo che ti ho segnato. Quale mi ha segnato? Ah, quello su. Seguimi, ma. Tanto non ci vuole assai. Oddio, stavo facendo un frontale con un altro cavallo. Ok, ci sono. Via! Si entra già nel prossimo, signori. Siamo proprio una macchina da farm. Una farm car. Una car farm. Una car farm ti piace, Mimmo? Una car farm. Car farm. Via, andiamo di qua. Ah, questo ha lo stesso design del dungeon, proprio iniziale. Forse Rino. Mi uccide, io mi frego le cose. Veloce, veloce. Yahoo! Ok, spacchiamo questo. Dove vai, dove vai? Che devi fare? Dove vai? Dove vai, dove vai? Tutte sem bicicletta. Oh, l'ha retto, andiamo di qua, forza. Comunque, a me, me le ha dati due cavalluzzi, poi. Io uno pure l'ho droppato, eh. È stato quello là che hai visto prima. Ma ce l'abbiamo? No, non abbiamo il cosattivo. Cioè, io non ce l'ho il cosattivo. Missione. Il che? Per aumentare l'esperienza, l'Elisir. Ah. Me l'ho dimenticato. Si strepa e sei nuovo in macellaio. Mizzica. Guarda, io l'ho già incontrato nella run e l'ho distrutto perché avevo, ovviamente, tutto per poterlo fare. Nel senso, ho beccato il santuario. Ogni volta lo becco quando ho il santuario. A sto giro l'ho beccato quando c'eri tu. Mi ha dato un altro... Un altro leggendario per la build da fuoco. Bene. Venito, dai. Fatto che possiamo frastornare e quindi poi rendere i vulnerabili, frastornare, farli cadere, insomma, creiamo dei crowd control continui. Ed è ottimo anche per i boss, questo, perché diamo quella possibilità alla barra dei CC di riempirsi molto più velocemente. Mamma mia che danno che ho preso da quelle pustolone che si sono devastate a terra. Ne ho preso tutto, ok. Via! Ok, vai a sinistra. Bravo. Immo, ma tu vai sempre dalla stala chiusa. Eh, volevo uccidere i cagnoletti. Ma poveri. Ma in realtà fai bene, perché il concetto è quello di esplorare, però quando si fanno... Adesso stiamo facendo un dungeon un po' così, anche se è giusto quello che stai facendo, anzi. La cosa è proprio divertente per questo motivo. Ma... Hai notato che non si possono mai aprire forze ali che ti escono sempre robe? Sembra che dice perché chi ha toccato le mie cose? Chi sta provando a rubare le mie robe? Cioè... Uh, anello leggendario. Sono incastrato. Ho trovato degli scheleti che se... Se la stavano dando a gamba perché avevano perso il... L'aggro. Cacchia rola, che danni che prendiamo ancora dalle esplosioni. Comunque dovresti provarlo il 70, eh. Dovresti davvero provarlo. Il che? Il 70, tipo fare il... Il capstone dungeon, perché... Ma vuoi che lo proviamo? No, io lo voglio fare da solo. Non voglio farlo con qualcuno perché sennò è troppo facile. Perché in due sicuro ce la facciamo, non lo so. Invece non voglio che sia così, voglio... Voglio caparmela da solo. Poi, nel caso, se dovesse servire una mano possiamo anche farlo insieme. Però non credo perché io vedo che... Comunque il mago ha molte possibilità di farlo, anche a livelli più bassi, secondo me. Io, a parte Elias, tutto il dungeon, tutto sommato, non l'ho fatto malissimo. Certo, ho avuto qualche difficoltà a un certo punto. Continuavo ad ammazzarmi, però poi... Sono arrivato alla fine. Sei lento, Mimmo, madonna che sei lento. Guarda come vomita, guarda. Sì, vedi che ha mangiato qualcosa che mi faceva male. Piccantello. Ok, anche questo è fatto. Vediamo quanti siamo arrivati. Lo fa vedere, 4 e 15. Vediamo se abbiamo tempo. 48 minuti, volendo ne potremmo fare uno al volo al volo. Una roba al volissimo, ci dobbiamo lanciare. Se ne voglia, io... Ce ne stava un altro qua vicino, ma no. Eh, no, credo che l'abbiamo fatti tutti vicino. Sì, infatti l'ho fatti tutti. E quello lì sopra, il segnale di Scarlett. Sì, quello che ho pingato. Andiamo all'ultimo. E dai, dai, che ce la facciamo a fare un altro ancora. Che il signor Mimmo oggi è in vena di fare i culi e congelare tutti. Eh, adio... Sì, io provo a vendicchiare qualcosa prima, perché sennò ho tutto pieno. Sì, prendo io. Sì, prendo io, vabbè. Prenda lei che le devo dire. Sì, facciamo un po' di soldi. Anche a lei, anche a lei. 22 destrezza. Ho tutte le caratteristiche più 10 velocità d'attacco. Però l'affica fa cagare, non c'è la me salpeggianti. Ma chi lo sa. Però, adesso abbiamo fatto 1.680.000 qualcosa. Ok, io vado verso il dungeon. Sto andando pure. Bella Mimmo. Aspetta, allora, mi tritrasporto di te se riesco. Altro posto per il massino. 48 e la terza barretta. Io sono 59 e poco poco arrivo alla terza, al terzo puntino, là. Ma perché non scende dal cavallo in automatico quando premo C? Che cosa sbagliata. Oddio, almeno in prossimità delle cose, intendo dire. Perché altrimenti scenderebbe anche quando gli do la velocità. Madonna, che laggata. Ok, io ci sono. Però c'è un santuarino carino. Forse è quello che devo dire grazie. Ah no, addio. Addio. Ma perché Scarlet ha problemi quando deve dire addio. Ma non ce la facciamo neanche a stare fermi. Ma come l'ha detto? Ok, entriamo. Facciamoci quest'ultimo dungeon al volo e poi siamo pronti. Peccato che manca davvero pochissimo e non possiamo concludere in questo episodio. Allora. Questo qua. Fitti boschi di Nostrava. Mi ricordo quando facevo i primi video che non avevo ancora il microfono e registravo tutti i dungeon. Partivo da uno, lo registravo. Partivo dall'altro, lo registravo. Che era divertente però pure in quel modo lì. E già avevo la build twisting blades. Mimmo attivati sempre la cosa, eh? L'elisir. Sì, sì, si attiva. Mi serve più tempo. Ok, tu vedi a live, vado da qua. Andiamo a se riesco a tirarmeli tutti perché... Una alla volta. Madonna, sti scheletri che sono lenti. A meno qua ci sono... Questi che sono... Più veloci. Ma gli scheletri non si muovono. Poi dalla distanza. A parte che letteralmente non si muovono perché hanno... Davvero dei movimenti che vanno a 30 fps se non meno delle volte. Non capisco il motivo di questa storia. Rattospino dei miei stivali. Ok. No, ma come? Sono uscito fuori altre robe qui. Ciao Spettro Silvano. Ciao Mimmo. Una statua di polaretto c'era lì. Madonna che casino. Niente ci può bloccare. Pa, 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 pa. Corserino. Tutti giù per terra. Via. Prendiamo la sciabola. Non posso ancora farlo. Ok. Nostro amico Elite. Vabbè, ma loro vanno giù così facilmente perché il danno che facciamo con la barriera è incredibile. Ed è l'unica cosa che ci salva d'altronde. Uh, qua c'è un santuario. Ok. Ecco, adesso mi sento quando abbiamo... Quando abbiamo la cosa, come si chiama la... L'infusione d'ombra. L'infusione d'ombra fa molto casino quando fa esplodere tutto. Mi serve più tempo. Tendiamo tutto quanto. Da che non ci manca tantissimo al nostro prossimo... Step per... Il nostro... Non dico livello, ma... Ma almeno ci becchiamo i punti esperienza della... Le punti eccellenza. Quelli li vogliamo sempre. Mimmo, ti sembra... Casino che puoi fare da queste parti. La gente dorme qui. Ok. E' a noi piatto di fare casino. L'ha notato. Uccidi di alberossa. Anche gli albergialli da queste parti. Comunque... Vediamo... Non ci si troverà la bravo. Mi vado da qua. Tutti vicini, tutti vicini, tutti vicini. Venite, 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 venite. Quello là non si voleva muovere con lo scheletro. Mamma mia, quante volte l'abbiamo attivata la trappola. Ok, e qua abbiamo fatto praticamente tutto. Non so se abbiamo saltato qualcosa da questo lato, quindi ci vado. E qua, e qua, lì. Ah, ok, aspetta un secondo che però c'è un punto nella mappa che... Non l'abbiamo fatto, quindi con la scusa lo voglio vedere. Ok, non c'è niente interessante. Ok. Arrivo, arrivo. Ma quindi finisce così? In serio? Facile, facile. Voglio vedere allora cosa c'è qua sotto. Se si è droppato lì. Non cose che credo possano essere totalmente utili. Sì, però verrei a vedere a questo punto. Ah, c'è ancora roba, dai, le ammazzo. Tanto manca pochissimo per livellare. Non credo però riusciremo a livellare a sto punto se non incontriamo qualcuno. In quale da me si è zitta un falsile maledetto. Uh, arrivo, arrivo. Uh, quanti soldini. Abbiamo accettato l'evento. Oh, bello, l'abbiamo livellato finalmente. Sì, sì, tutti qua, venite. Ah, che godura. Più sono, più posso fare danno. È un qualcosa di incredibile questa build. Mamma, che bello. Non posso ancora farlo. Ah, io mi stavo preoccupando che non riuscivo a fare questo ultimo pezzettino di livello. Oh, leggendario, vedi, pure sacro. Sempre arco, però poi. O prendi tutto. A questo punto tanto vendiamo qualunque cosa. Andiamo in città che so pieno, così vendo. Sì, tanto io ho finito proprio. Facciamo questo, questo pure. Andiamo a questi qua. Ma lì non sai se l'abilità leggendaria è accumulabile. In che senso è accumulabile? Cosa vuoi dire? La percentuale di danno, intendi? Sì. Vabbè, sì, se c'è un 15% da un lato, un 15% dall'altro lato, sì. Le percentuali in diavolo sono sempre accumulabili in questo senso. Non però i danni percentuali dovuti ad un aspetto leggendario. Quello è un altro discorso. Quello se ce l'hai uguale non è accumulabile. Perché se, tipo, se qua c'ho l'infusione, c'ho del 25% dei danni aggiuntivi ai nemici immobilizzati, straditi o congelati. E c'ho una roba simile. Un'infusione, eh? Scusami, fammi capire. Perché io le infusioni non so cosa intendi, perché per i rogue hanno un senso... È l'abilità leggendaria. Ah, tu le chiami... Ok, ho capito cosa intendi. Perché nel rogue sono abilità le infusioni. Quindi stavo cercando di comprendere. Eh, andiamo di qua, di qua, di qua, di qua. Vedete che non lo so. Perché io per istinto farei questo. Tutti i danni da trappole. Però poi allunghiamo tantissimo per arrivare qui. Facciamo che prima andiamo di qua. Non lo so. Intelligenza ancora. Tanto ci serve l'intelligenza. E poi possiamo fare magari questo qua. Eh sì, perché dobbiamo arrivare il più velocemente possibile qui, secondo me. Ancora prima di qua. Anche se poi effettivamente 15%. Danni ai nemici e effetti alla abilità trappola 10%. Ma qua 23. C'è tanta roba. Comunque signori, io direi di chiudere qui il video. Spero che vi sia piaciuto. Perché è stato un bellissimo episodio. Ci siamo divertiti. Mimmo sarà dei nostri anche poi probabilmente nei prossimi episodi. E quindi se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Dall'Alcana è tutto. E ci sentiamo in un prossimo video. Ciao! Ciao!